In questo breve video parleremo di dieta onnivora, vegetariana e vegana e faremo un'analisi su quale di questi tre regimi nutrizionali sembrerebbe maggiormente congeniale per l'essere umano. Nonostante l'enorme dibattito che è imperversa in questi ultimi anni nel mondo della rete, dobbiamo fare una premessa doverosa. Si è visto ormai da diversi studi scientifici e questo ormai sembra essere provato, che una dieta principalmente vegetale può migliorare, preservare il nostro stato di salute nel tempo. Attenzione all'interpretabilità però delle parole perché parlare di dieta principalmente vegetale è ben altra cosa che dire una dieta esclusivamente vegetale. Sicuramente una piccola introduzione di alimenti di origine animale sono in grado di sopperire a determinate carenze che possono presentarsi in tutti quei soggetti che invece tendono ad avere un regime estremista nelle loro pratiche quotidiane. Mi riferisco per esempio ad una carenza che si potrebbe presentare nei vegani che è la vitamina B12, una vitamina esclusivamente di origine animale che alcuni studi, anche alcuni dibatti di televisivi sembrerebbero mettere sostanzialmente in discussione, cioè che anche l'introduzione di cibi vegetali permette il corretto fabbisogno di vitamina B12. Purtroppo alcuni studi, tra cui uno del 2010, svolto su alcune centinaia di soggetti divisi tra univoli vegetariani e vegani, sembrerebbe aver ormai dimostrato che quasi la metà dei vegani indagati in questo studio erano carenti di questa vitamina importantissima per il sostentamento della nostra salute. La maggior parte degli altri vegani che non erano clinicamente carenti di vitamina B12 era probabilmente dovuto al fatto che il regime vegano era stato intrapreso ancora da troppo poco tempo. Ricordiamo che la carenza della vitamina B12 si può presentare anche a distanza di molto tempo, stiamo parlando di alcuni mesi o addirittura alcuni anni. Ebbene perciò in alcuni periodi dell'anno, soprattutto per chi decide, magari per scelta etica, non discutibile, non opinabile, di affrontare il regime vegano, di affrontare però anche un periodo di integrazione di questa vitamina, opportunamente ciclizzata ovviamente da un esperto del settore, che possa così appurare un'eventuale carenza con esami specifici. Al contrario i soggetti vegetariani, almeno nei nostri paesi occidentali, sembrerebbero quelli maggiormente tutelati da alcune problematiche da carenza di vitamina B12. Infatti l'introduzione anche saltuaria di piccole quote di alimenti di origine animale, tra cui le uova, permette tranquillissimamente di rientrare in una fascia protetta, evitando così fenomeni di carenza vitaminica. E veniamo infine agli onnivori, che sono la categoria ancora oggi nei nostri paesi occidentali sicuramente più diffusa, che consumano una certa quota anche di carne, pesce e derivati animali. Beh loro hanno sicuramente una buona tutela se iniziano a prediligere sicuramente dei prodotti itici rispetto ai prodotti di origine animale. Ricordiamo però che tra tutte e tre le categorie sostanzialmente onnivori e vegetariani sono quelli maggiormente tutelati. Per quanto riguarda i vegani, al di fuori di scelte etiche, possiamo dire, dobbiamo specificare che in quei paesi dove la diffusione di cibi fortificati non è così diramata come nei nostri paesi occidentali, sembrerebbe che una dieta vegana possa mettere anche a repentaglio la nostra salute cardiovascolare, indipendentemente purtroppo dalla forte campagna pubblicitaria che in questi ultimi anni sembrerebbe spingere verso un regime nutrizionale rispetto ad un altro. Faremo inoltre chiarezza in prossimi video per quello che ci dice il mondo della scienza sul mondo vegano, in modo tale da dare ulteriori informazioni per quanto riguarda tutti quegli sportivi che oggi sono sempre più numerosi ad abbracciare questo regime nutrizionale.